periodo di attività post season al pala 30 alla blm gruppa arena c'è anche alessandro guazzalocca che tipo di supporto stai offrendo a questi giovani ragazzi che stanno facendo questa attività ma vista la condizione di questi ragazzi che arrivano da una stagione coi club sono magari stati fermi qualche settimana e adesso fanno qualche settimana di allenamento prevalentemente tecnico e ovviamente cerco di dare loro un lavoro fisico che permetta di mantenere una condizione generale un buon fitness generale per non avere problemi nell'allenamento con la palla quindi abbiamo preparato un lavoro conoscitivo intanto perché alcuni di questi ragazzi magari potrebbero tornare utili in futuro come successo lo scorso anno con codarin per la prima squadra e di condizionamento generale fitness generale per riuscire a a tenerli in forma per queste quattro settimane mesi estivi maggio giugno in particolar modo sono anche tempo di bilancio anche per chi fa la tua professione da questo punto di vista la stagione appena conclusa la 2018 2019 cosa ha detto ma ha detto intanto che vista a mente fredda è stata una stagione molto positiva al di là dei trofei vinti per il percorso che abbiamo fatto portando arrivando al secondo posto e comunque rimanendo sempre a un alto livello di prestazione per tutta la stagione cosa non non sempre scontata sicuramente abbiamo ricevuto buone indicazioni da sistemi di lavoro che abbiamo sperimentato per la prima volta almeno nei miei vent'anni di carriera e questo sistema può essere perfezionato può essere migliorato sicuramente è un qualcosa che ci darà ci darà un valore aggiunto già di partenza per la prossima stagione che inizierà a grosso modo almeno a livello di preparazione a fine agosto ecco da questo punto di vista ai giocatori che non sono in nazionale nel periodo estivo hai dato i compiti per le vacanze ma solitamente tendo a dare compiti a tutti indipendentemente che restino con noi o che cambino o che cambino club quindi i pochi giocatori che non sono andati in nazionale sono già stati dotati di un programma per due mesi più un mese ulteriore che sarà seguito da chi invece verrà confermato qui a trento ovviamente sono esclusi da questo giocatore come codarino de angelis che si stanno allenando con noi in questo momento e che avranno successivamente la loro parte di compiti ultima domanda il primo acquisto annunciato è quello di clemen sebul un giocatore molto fisico e da questo punto di vista anche molto interessante per te è un giocatore che conosco solo per quello che ho visto sul campo avendolo come avversario è un giocatore che ha sicuramente buone qualità esplosive buone qualità fisiche si tratta adesso di quando arriverà di conoscerlo e di trovare il lavoro migliore per possibilmente migliorarlo grazie a tutti